A tutti un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa matutina su Televideo Agrigento. Ovviamente stringeremo l'obiettivo sui principali quotidiani che operano nell'isola che si occupano prevalentemente della Sicilia ma daremo anche uno sguardo per quanto riguarda i temi che hanno caratterizzato la giornata di ieri, una giornata importante dal punto di vista politico con la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Infatti questa notizia è quella che domina su tutti i quotidiani. Poi faremo anche una incursione nella rete per vedere, per capire cosa bolla in pentola, quali sono le notizie in tempo reale. Poi abbiamo anche le agenzie di